Buongiorno ragazze, allora oggi è mercoledì forse, qui mia sorella lascia tutti gli armati aperti comunque è mercoledì e c'è l'occupazione a scuola mia ma vado comunque e la cosa bella che farò oggi è a parte andare a pranzo da Maggie ecco magari con questa luce mi vedete un po' di più a parte andare a pranzo da Maggie ci sarà un evento, un evento assai fuori a via del corso e io ovviamente andrò con Benedetta e Leonora, purtroppo già non ci sta perché sta a Berlino ciao amore ci manchi e ci saranno un sacco di youtubers, oddio stai fermo, che seguo anche molto famose ovvero Ceri Pandemonium, Vanessa Magico Trucco, J'adore le make up a Nissa e ci sarà anche Edoardo, star fashion make up e sono un sacco contenta, non vedo l'ora di andare e ora non so bene come vestirmi mi ero messa così con la felpina di Dior e la connellina e le calze solo che sta felpina è un po' troppo sportiva forse non lo so, però sto andando a scuola all'inizio quindi mi sono vestita così siamo qua con P, stiamo andando a scuola quindi ciao P ciao P e lui mi ha fatto una burla perché mi ha detto che non stava sull'autobus in realtà stava sull'autobus io mi ero molto arrabbiata allora ci siamo fatti qualche ora a scuola e adesso ho detto qualche ora ho detto qualche è vero che ho detto qualche poi ci siamo fatti qualche ora a scuola adesso abbiamo comprato basta abbiamo comprato qualcosa per il pranzo però dovevo prendere la panna per la pasta e stiamo andando a un centro commerciale piccolino che sta vicino casa di Costui le patate che mangeremo a pranzo poi non sappiamo ancora bene cosa abbinarci però lo scopriremo c'ho delle borse giganti che non sono borse infatti anche quest'occhio è tutto gonfio e questo qua e la mano se vedete perché ho scoperto di essere allergica molto probabilmente a una medicina che ho preso ieri tu lo stavo vendendo in giro oddio davvero mi stavo vendendo in giro oggi lui è molto simpatico comunque io sono felice non vedo l'ora che arrivi stasera e tu non ci sarai che divertente con la recensione live sti cosi sono buonissimi ho preso il mini questo come si chiama? questo qua Kinder Cereali forse e lui il mini Kinder Buono sono un sacco buoni cioè in realtà sono come quelli grandi solo che piccoli però sono buoni ecco pasta e adesso stiamo aspettando che si cucinino le patate e ora vi presento Charlie ciao Charlie ciao che è il cagnolino di Maggie ciao siamo qui con Kevin Ele amico di Ele che ha comprato la borsa eh no però vabbè non lo vedrà mai la ragazza ci stanno anche Giulia e Edo ciao e niente ora stiamo aspettando Benny che sia tipo persa per arriverà ammirate tutti i leggings di Benny la mancatevi sono bellissimi fidatevi ciao ci sono un casino di gente e Kevin non lo sa eccolo è troppo presente secondo voi il sondaggio quanti anni ha Kevin? scrivetelo nei commenti e non ci azzecchierete mai e non ci azzecchierete mai ciao ragazzi adesso noi ce ne stiamo per andare e niente ci sono pronti niente rossetti niente rossetti per loro poi ve le faccio vedere e niente ciao bambone fanno venire a piazza Venezia che stanno facendo? non sapete che io non c'ho ombrello questo primo piano è una di pre oddio e niente noi se praticiamo aiuto io mi pratico voi c'hai dei ombrelli ma chi ce l'ha l'ombrello? alza te so che vai con lei fai tu fai tu fai anch'io siamo tutti senza ombrello non ce la faccio a piave tutti siamo tutti nei casini nei casini insomma siamo ancora davanti se fra non vedo l'ora di andarmene perché io ho povero Kevin mi faranno laureola vabbè ma purello Kevin che ci ha tenuto oggi tutte le borse le giacchette ci ha fatto un sacco di foto ci ho vloggato per voi per loro per tutti i quali ringraziate Kevin nei commenti e mi raccomando indovinate quanti anni ha allora io tra un po' vado a nanna non vedo l'ora di struccarmi perché comunque sto davvero distrutta sto fuori da stamattina prestissimo però vabbè essendo un vlog l'avete visto perché sono andata a scuola e adesso perciò mi vado a struccare mi vado a mettere a letto e però volevo provare questa matitina qua casomai me la provo adesso ve la accendere così vi do la buonanotte sempre che riesco a aprirla grazie volevo far vedere i regalini ci hanno dato da Sephora che è questa matita ma io non la riesco a scartare non ci riesco cioè meno male che sono riuscita a far uscire il tappo ci ho messo 5 ore non so se sono ebbede io e poi volevo far vedere anche questo termoprotettore che ho comprato prima di andare all'incontro e il packaging parla da solo voglio provare tutta la linea di questa di questa marca se è buona perché non costa niente l'ho pagato d'acqua e sapone 2,30 euro è bellissimo da vedere e spero sia anche molto buono l'ho visto da Kia Scritch fatemi sapere se l'avete provato niente io vi volevo far vedere questo coso indossato ma vedo se ci riesco altrimenti vi do la buonanotte così allora ragazzi finalmente sono riuscita a provarmi il rossetto che è questo qua l'ho messo un po' alla cavolo che non è rossetto è una matita tra l'altro e sono sanca morta infatti mi sono appena tolta le scarpine e non vedo l'ora di mettermi sotto le coperte e struccarmi perché veramente voi lo sapete ma sto fuori da 500.000 ore e niente io ringrazio davvero tantissimo tutte le persone che abbiamo incontrato e conosciuto oggi perché davvero ho passato una giornata fantastica Giulia ragazzi io non la conoscevo di persona ma la seguivo un sacco su youtube ed è di una dolcezza impressionante cioè veramente ciao ciao Giulia sei veramente un tesoro e poi anche Edoardo vabbè io l'adoro e tutte le altre ragazze tutte le persone all'incontro è stato veramente veramente bello e io vi mando un grosso bacio spero che passare questa giornata insieme a noi vi abbia fatto piacere e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi